A che cosa stai pensando, Yagna? Credo sappiate che Yagna dovrà lasciare casa. Perfetta per un ricco vedovo. Sarebbe una bella vita la sua se solo lo volesse. Sto bene così, grazie. Tua madre ti sta vendendo. Sarai la prima donna del villaggio. Ci sarà pure qualcosa di più importante nella vita. Cerca di togliertela dalla testa finché sei in tempo. Come potrei? Quando lei riesce a mandarmi in fiamme anche l'anima. Ho un marito. È mio padre. Che possiamo farci? La terra è solo mia e posso farci quello che voglio. Devi nasconderti! Non sei venuta al mondo per essere povera. Perché hanno discusso? A causa tua. Musica! Gli sei costata poco. Parli tu che ci hai venduto ancora per meno! Sapevi che aveva moglie e figli. Invece lui non ha nessuna colpa. L'amore non dura per sempre. La terra invece sì. La terra invece è un altro po' Grazie a tutti.